Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Siamo tornati all'appuntamento settimanale con il Tg San Nicandro di oggi, 19 giugno 2015. Partiamo con la spiacevole notizia dell'aggressione di una ragazza aggredita da parte di un cane, avvenuta lo scorso 17 giugno. Si tratta dell'ennesima aggressione ad una nostra cittadina. La giovane 31enne si trovava nei pressi della zona di San Cristoforo, andata lì per far visita ai propri familiari. Uscita dall'auto si è ritrovata davanti un cane, inizialmente dall'aspetto innocuo, di media taglia, il quale all'improvviso ha iniziato a ringhiare e si è avventato contro la giovane, mordendo la gamba a sinistra e strappandole anche via un lembo di carne. La ragazza, cercando di mettersi in salvo nella propria vettura, ha tentato di allontanare l'animale con la gamba destra, ma è stata morsa anche su questa. La giovane è riuscita poi a mettersi al sicuro e si è recata alla locale postazione del 118 per le dovute medicazioni, dove gli sono stati applicati 5 punti di sutura sulla gamba sinistra e gli è stato somministrato il vaccino antirabbico. Ci è stato poi successivamente comunicato che pare che il cane abbia un proprietario e qui ci sono quindi indagini in corso per poter risalire a lui. Noi della redazione preghiamo tutti i possessori di cane a prestare attenzione ai propri animali domestici al fine di evitare questi spiacevoli episodi. E' stata chiusa al traffico via Papa Giovanni XXIII. Guardiamo insieme il servizio di Raffaele Sassano. A partire dal 16 giugno e per l'intero periodo estivo, la centralissima via Papa Giovanni XXIII sarà chiusa al traffico. Tutti i mezzi di trasporto saranno così deviati nella strada adiacente alla scuola di Piazzo 4 Novembre, via Paolo VI. Sul posto gli addetti ai lavori di interdizione al traffico e l'assessore Costanza di Viesti che hanno posto delle fioriere ornamentali accanto ai segnali temporaneamente collocati sulla strada. La Gesci San Nicandro all'udienza generale a Roma. Guardiamo insieme il servizio di Pachi Caruso con riprese di Piero Vocale. Erano quasi 100.000 gli scout presenti lo scorso 13 giugno a Piazza San Pietro a Roma per l'udienza generale che Papa Francesco ha voluto dedicare alla Gesci. Tra questi anche il folto gruppo scout di San Nicandro Garganico. Presenti tutte le branche, lupetti, coccinelle, esploratori, guide, rover, capi e assistenti ecclesiastici provenienti da tutte le regioni d'Italia. I nostri boy scout sono partiti a mezzanotte dalla nostra città per arrivare all'alba in Piazza San Pietro dove erano presenti già tanti altri gruppi. Alcuni, come quelli siciliani, erano a Roma dal giorno prima. Abbiamo ripetuto l'esperienza vissuta con Giovanni Paolo II nel 2004. Allora eravamo in 30.000, ci hanno dichiarato entusiasti. È stato molto emozionante. Il Papa alla fine del suo discorso ha salutato personalmente molti scout e ha indossato alcuni dei fazzolettoni che gli sono stati regalati. Toccante anche il discorso di Papa Francesco. In questa società dove c'è l'abitudine di fare muri, voi fate ponti, per favore. Sono certo, ha detto ancora il pontefice, che la Gesci può portare nella Chiesa un nuovo fervore evangelizzatore e una nuova capacità di dialogo con la società. Terminato il corso di bagnino di salvataggio a Torremileto. Lunedì 15 giugno nella località turistica di Torremileto si è svolta alla presenza del comandante il presidente della Capitaneria di Porto di Vieste, il tenente di vascello Marco Pepe e il sottufficiale di Maria. L'ultima prova dei candidati esaminandi del corso di bagnino di salvataggio indetto dalla Società Nazionale Salvamento. I candidati hanno sostenuto dapprima la prova teorica di conseguenza, la prova pratica, proprio nelle acque sannicandresi. Questo importante passo nella formazione dei giovani, che hanno così una nuova opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro, ma anche nelle forze armate, ha ottenuto un grande successo, visti i risultati positivi degli esaminandi. Grande merito di questo successo è dovuto all'istruttore Nazario Papa, che da sempre si impegna nell'ammirata formazione di queste importanti figure professionali da anni presenti ed indispensabile per le spiagge e i lidi garganici, nonché italiani. Gli esaminandi sono Cannarozzi Michele, Caruso Vincenzo, Cristino Massimiliano, Di Sipio Enzo, Ferrazzano Michele, Forte Stefania, Fracca Creta Paola, Malerba Giuseppe, Montemitro Angelo, Panzieri Federica, Pertosa Michele, Pasqua Matteo, Spallone Fedele, Spallone Giuseppe e Stefania Matteo. Finalmente il nostro Lido, tanto bistrattato negli ultimi anni, si è reso protagonista di un evento didattico-culturale molto importante per lo sviluppo del turismo e della sicurezza delle spiagge. Parte Aspettando l'estate dei ragazzi 2015. Guardiamo insieme il servizio di Vincenzo Gianiorio. Con il patrocinio dell'amministrazione comunale di San Nicandro Garganico, l'associazione Tutti i colori del mondo Onlus e l'associazione Penelope organizzano presso i laboratori urbani artefacendo bollenti spiriti la prima edizione di Aspettando estate ragazzi 2015, partita già lo scorso 8 giugno con una vasta scelta di attività in programma la mattina e il pomeriggio per bambini dei 4 e i 12 anni. Disegno, pittura, attività artistiche, sport, giochi dinamici di gruppo. Tutto questo e tanto altro ancora nell'attesa di estate ragazzi 2015 che partirà il 13 luglio e terminerà il 31 luglio per la quale sono previste anche escursioni, giochi con l'acqua e tante altre attività. Per informazioni basta recarsi presso i laboratori urbani in piazza Nassiria alle spalle dello stadio comunale da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 oppure chiamare al numero 329 1061590. Scusate l'errore, il servizio era riferito al Aspettando l'estate ragazzi 2015 mentre sono aperte le iscrizioni per l'estate dei ragazzi 2015 dell'associazione di promozione sociale Gargano Solidale che organizza l'edizione 2015 appunto dell'estate dei ragazzi presso il centro polivalente per minori in Viale Vittorio Veneto 52-54. Le attività si svolgeranno dal 12 giugno al 31 luglio di quest'anno da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e comprenderanno vari eventi per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Per avere ulteriori informazioni basta recarsi presso la sede del centro oppure telefonando al numero 320-0923-993. Domenica il secondo raduno d'Auto d'Epoca. Guardiamo insieme il servizio di Pacchi Caruso. Gli amici Vintage Gargano, un gruppetto di amici appassionati di auto d'epoca e storiche avevano promesso sin dalla prima edizione del raduno lo scorso anno di dare continuità all'evento qui a San Nicandro e rieccoli con la seconda edizione del raduno di auto d'epoca. Il raduno si terrà a San Nicandro Garganico e Torre Mileto domenica 21 giugno 2015 a partire dalle ore 10. Questo è il programma dell'evento. L'incontro è fissato alle ore 10 in piazza 4 novembre a San Nicandro Garganico per la registrazione degli equipaggi partecipanti. Alle ore 10 e 30 è prevista la colazione. Alle ore 11 e 30 inizierà un giro panoramico che porterà i partecipanti in parata tra San Nicandro, Cagnano, San Nicola in Buti, Capoiale e Torre Mileto. Alle ore 13 pranzo a Torre Mileto. Gli appassionati, nonché i possessori di un'auto d'epoca, di qualsiasi marca, possono partecipare all'evento per una giornata all'insegna delle auto storiche. Ricordiamo ai nostri web telespettatori che la processione dei Santi Patroni è stata spostata questa sera alle ore 19. Ed era questa l'ultima notizia di oggi. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci tramite il nostro sito www.sannicandro.org e la web tv www.sannicandro.tv Grazie dell'attenzione e a venerdì prossimo. Grazie a tutti.